Sotto la lente di ingrandimento dei RIS, le tracce di vernice prelevate dalla ruspa di Gesim Dodoli e dalle auto in sosta della famiglia Mugnai, che si trovavano nel piazzale della casa di San Polo, teatro del delitto, che si è consumato nella notte tra il 5 e il 6 gennaio. Quella sera Mugnai e i suoi familiari si trovavano a cena, quando vennero aggrediti da Gesim Dodoli, che alla guida del suo escavatore cominciò a colpire l'abitazione con la benna, distruggendone l'ingresso e danneggiando finestra e tetto. Mugnai sparò con la carabina, uccidendolo. Le risultanze delle analisi dei RIS dovranno confermare quanto emerso dalla ricostruzione dei fatti, ossia che prima di colpire con la benna la casa di Mugnai, il vicino aveva attaccato le auto. Al fabbro, che si trova in stato di libertà, il jeep Giulia Soldini aveva riconosciuto la legittima difesa. Adesso la procura di Arezzo attende anche il riscontro della perizia balistica sulle traiettorie dei colpi e delle distanze, la relazione dell'autopsia e l'accertamento sull'edificio svolto dall'ingegnere Fabio Canè con l'ingegnere Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo e consulente di Mugnai. La struttura infine è stata dissequestrata e restituita alla famiglia.